Stefania Orlando e il suo pranzo speciale cucinato da suo papà. Allora, questo sugo, buonissimo, l'ha fatto papà. Papà, l'hai fatto tu questo sugo? L'ho fatto io. Bravo. L'ho fatto io. Ma poi io che l'ho assaggiato anche altre volte, molto buono, eh? Oggi i ravioli, il sugo. Bravo papà. Ciao. Vedi, se no non ci credono, eh? Se no non ci credono. Bravo papà. Vedi, mamma, hai visto che soddisfazioni che ci dà papà? Dai, dai, che anche mamma contribuisce. E che non ce lo so. Anche mamma contribuisce. Non so voi, ma mi è salita una fame pazzesca.